Non è mia responsabilità di fare il vostro lavoro, questo è il mio lavoro e mi impedisci, capisci? Tu hai i tuoi piedi in mezzo al mio palco, voglio lavorare, c'è gente che è aspettando, diventa noioso per loro, loro vai via, io non guadagno, non urlare a me. Tu comportati in modo civile, ok? Questo è il Stato che mi impedisce il mio lavoro. Ma perché siete, per la prossima volta dovete chiedere, controllare voi senza interrompere. Voi è la vostra responsabilità di fare questo, parli con il comune, non interrompere gli artisti così, lasciate lavorare, avete quasi distrutto il mio spettacolo, questo è come guadagno io. Vai via, spostati subito, vai via, vai via e lasciami lavorare, spostati, spostati, adesso lui dice, con cui penso di parlare? Io penso di parlare con i genti, agenti della polizia locale, non persone che vuoi fare problemi. Lasciami stare! Oh, e io senti buono adesso, dopo questa intimidazione. E lui dice, parliamo dopo. E devo farmi aspettare con questa bella minaccia, adesso. Tutte le domeniche, io sono arrivato nel 2006, e ho deciso di rompere la palla oggi per questo. Grazie mille, forza d'ordine, proteggendo noi. Ok. Ora, pubblico, ho perso la voglia, sul serio, sento il boom boom tremolando con queste persone qui, tre persone con pistola, interrompendo il lavoro. Alzi in mano, chi vuoi vedere il spettacolo. Alzi in mano, chi è visto, fermato solo per vedere sangue. Alzi in mano, se tu sei uno di quelli che frena nell'autostrada, quando ci sono incidenti.